Gina, so dove aspettiamo la pasta, Gina, due ore aspettiamo la pasta qua Sei in onda? Gina, Gina, te diamo dopo, ciao Gini, ciao E ragina, prossimo servizio del nostro traffic è al metropolitano di Perugia Hanno ricostruito una vera e propria metropolitana a Perugia Musica tab culture, mi sono messo anche la maglietta perché questo servizio è molto speciale Siamo andati a uno dei locali più alternativi dell'anno, forse il più alternativo dell'anno Metropolitano, per noi c'è Arianna Fiandrini Ciao amici di traffic Questa sera per voi siamo al metropolitano di Perugia Ciao amici! Ciao amici! Amici di traffic, qua abbiamo l'animazione del metropolitano Conosciamo queste belle ragazze, come vi chiamate? Rachele, ciao Bianca, Petali Io sono una responsabile artistica, quindi più o meno l'idea parte in teoria da me ma grazie a tutta la disponibilità loro Ogni sera siamo a tema, quindi ogni sera c'è qualcosa di diverso e questa sera volevamo partire come pin-up però poi non c'è riuscito e siamo in stile anni cinquanta Sei la parrucchiera del metropolitano? Sì Vero? Sì Ogni sabato sera fai i capelli alle ragazze immagini? Sì, tutti i sabati sera mi diverso a creare delle acconciature Nuove Nuove e soprattutto abbastanza creative Ragazze, vi piace questo locale? Bello! È un bellissimo crema Che cosa dire nella musica? Bella, almeno è ricercata Carina Com'è questo metropolitano? È bellissimo! Amici di Traffic, siamo qua con il DJ resident del metropolitano Maurizio, bella donna Ciao Maurizio! Ma a te la tua musica che cos'è? Che cosa fa provare ai giovani? Ma, emozioni Tante emozioni la mia musica trasmette Da emozioni e da sballo la tua musica Lo sballo vero qua è la musica Amici di Traffic, siamo con Renato Questo metropolitano, com'è nato? È nato da un'idea del main man Del direttore, del proprietario Andrea Brughini Penso in un viaggio in America, in giro per il mondo Voleva ricreare un club in Italia, a Perugia E di cambiare un genere? Sì, voleva rinnovarsi, cambiare nuova cultura musicale Nuova dance culture E ha deciso di chiamarlo proprio metropolitano Per lo stile che ha... Per piegarlo all'underground Per abbinarlo all'underground Perché nella metropolitana c'è una mistura di stili Una mistura di persone C'è l'uomo in giacca e cravatta C'è di tutto direi Per questo E cosa dire di questo locale? Va bene? Sì, è perfetto Bella musica Belle persone Gente tranquilla Libera di esprimersi Non ci sono dress code Non c'è nulla di standardizzato Tutto in totale libertà Ciao amici di Traffic Siamo qui con Matteo Gubbiotti Senti, parlaci un po' del metropolitano Allora, metropolitano La nuova realtà del sabato sera di Perugia Abbiamo mischiato tre diverse realtà Da Los Angeles a Londra a New York Siamo nella sala fumatori New York City Da dove potete ascoltare tutta la bella musica che fa New York Dall'altra parte abbiamo la sala che rappresenta Londra Dove i tavolini rappresentano tutte le fermate della metropolitana di Londra E poi abbiamo il bar Los Angeles Cioè di tutto di più Metropolitano Dance Culture Perugia Vi aspettiamo tutti E finisce qui la prima puntata di Traffic Potrete trovarci su Tef Channel, canale Sky 921 Tef Channel, canale Sky 921 Pronto? Ok Potrete trovarci su Tef Channel, canale Sky 921 Oppure sul nostro gruppo Facebook Oppure su YouTube Insomma, cercateci Anzi, veremo noi a cercarvi Perché questo è Traffic E sarà il vostro incubo Ciao 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 Grazie.